Bene, dopo la scorpacciata di news su The Division 2 e la nuova espazione in arrivo il 3 di marzo è il momento di fare un po' di chiarezza su alcuni punti che meritano secondo me un approfondimento Oggi inizieremo con l'endgame e la parte PvE del gioco che verrà decisamente modificata per colmare quel buco che tutti noi abbiamo sentito durante la nostra prima esperienza a Washington Gli sviluppatori sembra che stiano lavorando nella direzione giusta, almeno sulla carta per quanto riguarda la rigiocabilità e la spinta che ci serve per andare oltre la storia e potenziare il nostro personaggio staremo a vedere se oltre che sulla carta, anche nel pratico, questi cambiamenti saranno congeniali Prima di iniziare vi ricordo che ancora attivo il giveaway di Instant Gaming di cui trovate il link in descrizione dove c'è la possibilità di vincere un gioco gratis ed in più trovate anche il mio link sempre di Instant Gaming che potete usare per fare tutti i vostri acquisti naturalmente per comprare i prodotti scontati Allora, endgame, sappiamo che la campagna dell'espansione di New York sarà corposa nel senso che qualche oretta di gameplay ce la porterà via perché soprattutto oltre a cercare di sconfiggere i vari boss delle zone quindi i tenenti di Aaron Keener dovremo anche livellare il nostro personaggio Come sappiamo chi deciderà di acquistare l'espansione avrà la possibilità di arrivare al livello 40 e questo succederà mentre stiamo affrontando la campagna e tutto il resto che ci sarà da fare a New York Però, finita la campagna e arrivati al livello 40, cosa succede? Dunque, diverse cose ci daranno la possibilità di continuare il nostro viaggio La prima sarà il nostro punteggio Shade Come sapete, lo Shade, il nostro orologio, ha sempre avuto un'importanza all'interno del gioco dalle comunicazioni al combattimento, eccetera, eccetera Però, finalmente, ora, avrà anche un ruolo centrale perché sarà il nostro hub dove vedremo il nostro punteggio Shade Il punteggio Shade è dato da quello che faremo oltre il livello 40 Mi spiego Ogni volta che faremo un livello di esperienza oltre il livello 40 riceveremo un punto Shade Prima potevamo ricevere le casse maestria Ora le casse con le ricompense verranno tolte e invece delle casse riceveremo punti Shade Questi punti Shade potranno essere investiti all'interno del nostro personaggio per aumentarne le statistiche E queste statistiche andranno praticamente aggiunte a quelle del nostro equipaggiamento nel senso che saranno statistiche fisse che saranno presenti anche cambiando l'equipaggiamento Queste statistiche non potranno essere portate avanti fino all'infinito naturalmente ma avranno tutti dei cap Ogni statistica avrà 50 step quindi in totale per maxare il nostro personaggio nelle statistiche base dovremo fare ben 800 livelli di esperienza quindi parecchi, insomma, sono parecchi livelli Certo, non vi aspettate statistiche gigantesche però sono percentuali che possono min maxare una build quindi sarà importante capire dove mettere le statistiche soprattutto all'inizio in base alla build o al tipo di personaggio appunto che si vuole fare Le statistiche saranno divise in armi da fuoco, difesa, parti elettroniche, manegevolezza e saccheggio All'interno delle armi da fuoco troviamo 4 sottocategorie che saranno danno arma, danni colpo alla testa, probabilità e danni colpo critico Per la difesa ci saranno salute massima, armatura, resistenza agli esplosivi e tutte le resistenze Per la maneggevolezza invece troviamo stabilità, precisione, velocità di ricarica e capacità dei caricatori Ci sarà anche una quinta categoria che invece si potrà continuare a potenziare all'infinito e sarà quella del saccheggio che è lontana da essere simile a quella che non ha mai funzionato su The Division 1 ma ci permetterà di aumentare le probabilità di trovare un determinato tipo di materiale o di valuta che magari in quel momento stiamo cercando come per esempio materiali per la ricalibrazione o appunto i soldi Le poche statistiche che hanno fatto vedere finora si spingono ad un massimo del 10% quindi un massimo per esempio di danno arma spinto al 10% Questo 10% non cambia di tantissimo però ci permette di avere quel qualcosa in più che potrebbe fare la differenza in alcuni scontri importanti Questo 10% sarà diviso in 50 step da 0,2% l'uno e questo varrà per tutte le statistiche che vi ho elencato sopra arrivando a quei famosi 800 livelli senza calcolare naturalmente la parte del saccheggio che quella naturalmente avrà i suoi livelli Questo sistema di Shade tutto quanto allungherà di tanto il nostro tempo di gioco sempre se naturalmente il nostro obiettivo è quello di avere un personaggio maxato Questo sistema ricorda molto quello di Borderlands con il suo livello guardiano che andava ad aggiungere statistiche casuali proprio al nostro personaggio potenziandolo In quello di Borderlands però si sbloccavano anche alcuni talenti speciali una volta raggiunto un determinato limite qui no però è sicuramente un sistema che permette ai giocatori più accaniti di avere tra virgolette qualcosa da raggiungere Veniamo ora ai contenuti però Cosa ci sarà da fare dopo la campagna? Allora arrivati al livello 40 non ci saranno più i livelli del mondo ma avremo la possibilità di attivare i modificatori globali Questi modificatori ci permetteranno di cambiare la difficoltà di tutto il mondo di gioco quindi non saremo più in grado di scegliere a che livello giocare le missioni ma possiamo decidere direttamente e globalmente di cambiare la difficoltà da normale fino all'eroica cambiando i nemici anche nel free roaming che diventeranno più difficili da sconfiggere e ci saranno anche più elite anche per esempio soltanto in pattuglia quindi tutto il mondo di gioco si trasforma e questo aumento di difficoltà ci permetterà di guadagnare più esperienza e più esperienza vuol dire un livellamento più veloce delle statistiche la difficoltà sarà direttamente collegata anche al nostro loot e quindi agli oggetti che troveremo e quindi maggiore sarà la difficoltà migliore sarà il loot che troveremo questo è un argomento che abbiamo già trattato nei video precedenti ma ora prende sempre più senso abbiamo visto come l'equivaggiamento cambierà così come la ricalibrazione e la sua libreria e questo ci permetterà di trovare pezzi con statistiche migliori ogni volta che decideremo di aumentare la difficoltà del mondo di gioco questo attenzione non vuol dire che non possiamo trovare pezzi godroll giocando a difficoltà normale ma solo che aumentando la difficoltà avremo più possibilità di trovare roll migliori a questa difficoltà si potranno aggiungere anche delle direttive le direttive hanno lo stesso funzionamento di quelle che avevamo su underground su The Division 1 per quelli di voi che l'hanno giocato quindi altro non sono che dei modificatori che ci permettono di aumentare la difficoltà e di conseguenza anche aumentare la nostra esperienza guadagnata con più esperienza faremo più livelli e potenzieremo più in fretta il nostro personaggio le direttive saranno 5 almeno per ora il primo sarà relativo alle munizioni cioè ne avremo di meno di partenza e le perderemo ogni volta che decideremo di ricaricare quindi dovremo stare sempre attenti appunto alle munizioni ci sarà Cool Skills che praticamente ci farà andare in cooldown un'abilità quando useremo l'altra quindi bisognerà stare attenti perché sarà come andare in giro praticamente con una sola abilità Fog of War ci toglierà l'indicatore dai nemici e la minimappa Noregen non ci permetterà di recuperare la corazza in nessun momento quindi neanche quando siamo fuori combattimento e Special Ammo darà la possibilità ai nemici di sparare munizioni speciali come le incendiarie o altri tipi di munizioni appunto per darci ulteriore fastidio tutte queste direttive possono anche essere usate tutte insieme per aumentare il moltiplicatore dell'esperienza quindi si può decidere per esempio ad andare in giro per il mondo di gioco a difficoltà eroica e con le direttive tutte accese per avere il massimo della difficoltà ma anche il massimo della ricompensa però per il massimo della sfida Massive ha deciso di riportare anche le missioni a difficoltà leggendaria che erano state introdotte con la 1.8 di The Division 1 le missioni leggendarie saranno le missioni più complesse da affrontare con una versione dei Black Tusk decisamente migliorata e letale in tutti i suoi aspetti dai nemici rossi agli elite corazzati questi ultimi con abilità anche diverse e con aggressività mai vista finora le missioni leggendarie al lancio saranno 3 e naturalmente avranno la possibilità di ricevere gli stessi modificatori del mondo di gioco quindi si potrà decidere di fare le missioni leggendarie anche con le direttive attive il che le renderanno ancora più complesse all'interno ci saranno i checkpoint quindi per evitare di ripartire sempre dall'inizio se si muore il tutto naturalmente come il resto del gioco sarà scalabile cioè vuol dire che il numero di nemici e la loro vita sarà scalata in base a quanti player ci saranno nel team questo per avere la possibilità di affrontarla anche in solo il che naturalmente aumenta il grado di sfida tutto questo per cercare sempre il loot migliore veniamo ai raid allora il raid attuale riceverà un piccolo rework e una volta arrivato al livello 40 ci sarà una versione del raid a livello 40 da poter rigiocare i raid saranno le uniche attività dove i modificatori globali e le direttive non funzioneranno per quanto riguarda il raid che deve arrivare però al momento non abbiamo informazioni e abbiamo un vago primavera come data di uscita ma aspettiamo nuove notizie al riguardo sarebbe alquanto inutile secondo me farlo uscire nel mentre dell'espansione quando stiamo ancora facendo la campagna oppure livellando il nostro personaggio quindi io me lo aspetto dopo qualche settimana adesso rimane da affrontare l'argomento zona nera e pvp di cui hanno parlato in minima parte rispetto ai cambiamenti che hanno fatto al pve di questo però ne parleremo in un prossimo video sono tante come vedete appunto le modifiche da digerire per il momento quindi non voglio intripparvi il cervello come vi dicevo all'inizio sono sulla carta a mio avviso tutte modifiche che hanno senso che ci permettono di avere un quadro interessante anche sul post campagna ora bisognerà vedere se nel pratico tutto questo si possa tramutare poi in ore di gioco oppure no io come sempre vi chiedo di farmi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate vi ricordo che se volete avere una comunicazione tra virgolette più diretta con me mi trovate in live su twitch tutti i pomeriggi o potete seguirmi su instagram che è la piattaforma che uso di più per comunicare con voi io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video e ci vediamo alla prossima ciao ne ciao